Non c'è assolutamente bisogno di questi attacchi, noi andiamo avanti, la Lega va avanti, fa quadrato intorno al presidente Luca Zaia. Nel momento più delicato, il numero uno vento del Carroccio fa da scudo a Zaia. Da segretario a segretario, come aveva chiesto poche ore prima il governatore a Palazzo Balbi, il messaggio è diretto al suo omologo azzurro. Forza Italia deve decidere cosa vuole fare, comportarsi da alleati significa dimostrare lealtà e soprattutto collaborazione, per noi il centro-destra deve lavorare unito. In ballo troppe sfide per rompere l'alleanza con Fratelli d'Italia, peraltro alla finestra, ma Tosi non si scompone e sottolinea un vulnus che sta alla base dei rapporti tesi tra le parti. Noi siamo fuori dal governo regionale e quindi ci prendiamo anche il diritto di muovere delle puntualizzazioni perché appunto Zaia ha scelto che Forza Italia, pur essendo in maggioranza, non faccia parte del governo della regione Veneto. In ballo dunque c'è anche quell'assenza di un forzista in giunta che il partito di Tosi vede come fumo negli occhi e che potrebbe essere colmata a breve con il passaggio di Giampaolo Bottacin dal Carroccio agli Azzurri. Intanto Stefani torna a difendere Zaia lanciando anche una frecciata velenosa ricordando l'ultimo governo Galan. Vorrei ricordare che il Veneto viveva un momento di grosse difficoltà in quel periodo e Zaia ha saputo garantire a questa regione uno standing straordinario. Nel Bale e nel Bene, ricorda invece Tosi, fu un periodo di grandi opere e di una sanità decisamente migliore. C'è un dato oggettivo che riguarda il sistema sociosanitario. Oggi la regione Veneto non è più fra le tre regioni benchmark, c'è dentro la Puglia per dire, che erano le regioni di riferimento per la qualità del sistema sociosanitario. Schermaglie che non sembrano destinate a fermarsi mentre il coordinatore di Forza Italia non ha dubbi sul futuro di Zaia. La mia opinione è che se Luca Zaia si candidi all'Europeo e con questo farebbe un servizio positivo per la Lega. Ipotesi che un leghista duro e puro e non tenero con i vertici come Roberto Marcato considera una pugnalata. Per me sarebbe una delusione. Io sono abituato a rapportarmi con uomini di parola. Ho sempre pensato che lui sia così. Se lui dovesse candidarsi romperebbe un patto che ha fatto con i Veneti. O ha sempre detto il contrario, si candida liberissimo, io lo sarei particolarmente deluso.